Benvenuto. Grazie. Sono state positive, purtroppo ieri non è andata come speravamo, però per fortuna già mercoledì abbiamo un'altra partita dove ci possiamo rifare. I campagni mi sono trovato subito bene, come ho già detto, ma la sensazione non è stata subito positive, mi ha colpito, magari non mi aspettavo una squadra così forte. Magari ieri l'ho visto proprio dal video dei miei campagni. Io quando sono arrivato subito già conoscevo Brillo che era con me a Fano, mi sono integrato subito bene, anche perché col gioco che fai il mister è più facile per me e con le mie caratteristiche integrarsi subito. Sono una punta esterna, mi piace molto triblare, puntare l'avversario, cross, fare l'assist, l'ultimo passaggio, poi il tiro. Sono veloce con la palla al piede tecnicamente, veramente perdo un po' di fisicità, però compenso con la tecnica. È un vantaggio sicuramente per me, infatti le mie caratteristiche. Mi sono trovato bene già ieri, quei 5-10 minuti che sono entrato. Speriamo che posso trovare ancora più spazio. Già arrivare alla Casertana è un punto importante. Naturalmente uno aspira sempre di più al massimo ad arrivare alla massima categoria, però già arrivare alla Casertana e fare un buon percorso è un buon punto di lancio per arrivare dove si spera. Una grande società, una società importante dove sono passati i giocatori importanti, ha fatto la storia, la Casertana. Ogni volta che giocavamo contro era uno stimolo in più fare bene. Non ci sono partite facili, ci sono tante squadre forti, blasonate, Bari, Ternana, Foggia, Palermo, ma pure le squadre che sono magari più in difficoltà in questo momento dicono sempre la loro. Non è mai facile, soprattutto fuori casa. Essere lucidi mentalmente e soprattutto lavorare il giusto come sta facendo il mister e affrontare la partita come se fosse lui.